Ehi amici, bentrovati. Se vi piacciono questi contenuti vi chiedo di iscrivervi e di mettere un like. Vi faccio vedere gli utensili di precisione presenti dal 2 novembre nei supermercati Ligla. Abbiamo la levigatrice a penna multifunzione ricaricabile a 19,99 euro, quindi 20 euro. È utile per forare, fresare, levigare, uccidare, pulire, tagliare ed incidere. Ha un numero di giri regolabile. Ha in dotazione 44 inserti, 5 mandrini, uno dei quali ovviamente premontato, chiave per la sostituzione degli inserti e cavo di ricarica USB. Qui vedete alcuni degli inserti e il contenitore. Ovviamente se vogliamo essere completi però dobbiamo comprare anche degli accessori. Abbiamo a 15 euro 14,99 gli accessori per levigatrice a penna, 276 pezzi a 15 euro. Servono per forare, fresare, incidere, lucidare, levigare e tagliare, per legno, plastica e metallo. Disponibilità ovviamente nei supermercati litri. Come vedete sono veramente tanti. Poi abbiamo altri accessori per levigatrice a penna a 2,99 euro, a 3 euro e come vedete abbiamo tantissime cose. Ovviamente saranno in confezioni diverse, non è che possiamo pretendere a 2,99 euro tutta questa roba. Poi abbiamo il set di micropunte per levigatrice a penna a 5 euro, per la precisione 4,99 euro. Sono dieci pezzi. Servono per circuiti stampati, plastica, vetro, acritico. Diametro 0,3 1,2 mm, 1,1 2,0 mm, 2,1 3 mm. Poi ancora abbiamo, questo più che per lavori di precisione, sì certo li fa meglio di un trapano, però anche lavori di una certa sostanza. Trapano a colonna, semiprofessionale diciamo così, a 199 euro. Numero di giri, profondità di perforazione, piano di foratura regolabile. Monitor digitale, illuminazione integrata e laser a croce. 550 watt o 350 watt di potenza assorbita. Numero di giri a vuoto da 450 a 2.600 al minuto. Angolo di inclinazione del piano di foratura da meno 45 gradi a più 45 gradi. 199 euro, comunque un prezzo discreto, considerato che c'è scritto che non è per lavori professionali. Poi abbiamo la stazione digitale di saldatura non ricaricabile a filo, a 19,99 euro, 20 euro. Ha la vaschetta con spugna integrata, temperatura regolabile da 200 a 450 gradi celsius, 48 watt di potenza assorbita, quindi non consuma certo volto. Ha in dotazione tre punte del saldatore di una premontata, due rocchetti di stagno da 10 grammi, spugna per saldatura. Ancora abbiamo set di taglierini a 3,49 euro. 3,49 euro, 3,50 euro, possiamo dire. Come vedete è molto interessante, questo insomma sarebbe da prendere. Poi abbiamo utensili per meccanica di precisione a 8,99 euro, con custodia inclusa. Come vedete ci sono veramente tanti pezzi e probabilmente può convenire per chi fa questo tipo di lavoro, certamente io non me ne farei nulla. Set pinza cream patratrice, 19,99 euro, 20 euro. Regolazione manuale della pressione e pinza con funzione di cricchetto. Maniglie bloccabili, 20 euro, insomma costa abbastanza anche se molto accessoriata. Supporto per trapano, serve per rendere un trapano normale trapano a colonna, certo non funzionerà mai come un vero trapano a colonna e ha un'inclinazione fino a 60 gradi. Lampada frontale a led, 2,99 euro invece che 3,99 euro, quindi uno sconto del 25%. Fasce elastica per la testa regolabile, modalità 100%, 30%, lampeggio. Flusso luminoso 125 lumen o 37 lumen. Batterie incluse, però è a batteria. Torcia led, 5,99 euro, illumina fino a 60 metri di distanza, batteria incluso e disponibile in vari colori. Anche questo con le batterie. Nastro adesivo telato 2,99 invece che 3,99 euro, quindi 2,99 euro, 3 euro invece che 4 euro. È resistente alle genti atmosferici e strappabili a mano. È nero oppure nel classico colore grigio. È tutto, è tutto.